è cambiato il paradigma mentre prima da un ragazzo down ci si aspettava che sapesse contare massimo fino a 10 ora ci si stupisce nel vedere i risultati eccellenti che si riescono ad ottenere equazioni problemi finanziari calcoli complessi le esperienze a scuola e la sperimentazione didattica ci dimostrano che la difficoltà dei ragazzi affetti da trisonomia 21 è proprio quella di non riuscire ad esprimere ciò che hanno compreso la professoressa monari ci ha dimostrato che se gli si dà fiducia lo fanno in modo speciale e addirittura unico lo dimostra un commovente esercizio dove lo studente non si è limitato a disegnare le casette in modo ordinale ma le ha fatte tutte diverse una dall'altra un chiaro invito a cercare la bellezza nella differenza e capire anche che dove ci sono le difficoltà ci sono nuove opportunità e la matematica ha la capacità di essere transformatrice ed è una disciplina altamente filosofica ma è proprio così la matematica è un'opportunità per tutti è un grande dono della storia umana è parte di noi e poi i greci l'hanno convertita in qualcosa di per tutti anni fa c'era in un libro abbastanza famoso come vincere la paura della matematica Sheila Tobias ha detto che la questione di apprendere la matematica e avere il piacere di apprendere era una questione politica diceva lei negli anni 70 erano le donne che non si precludevano anche un po' da sole anche spinte dalla società e nessuno studiava matematica e così si chiudevano tante strade poi le minoranze oggi parliamo di quei bambini che hanno tante difficoltà difficoltà che abbiamo anche difficoltà a catalogare quindi non cataloghiamo ma offriamo il meglio delle risorse che abbiamo per crescere e per maturare ed essere felici e diciamo che anche da parte degli insegnanti ci deve essere un apertura proprio un pensiero positivo sulla possibilità di riuscire ad ottenere dei risultati come abbiamo visto veramente incoraggianti ma io penso che in fondo impariamo dagli insegnanti questo ottimismo ogni insegnante che veramente si medesima con l'allievo si colloca accanto a lui cerca si mette in gioco lui lo sa che si ottengono dei risultati quindi l'ottimismo viene da questo se invece pensiamo di catalogare le persone con delle etichette questo può arrivare fino qua questo può arrivare fino lì perché ha queste condizioni con una posizione estremamente ancorata alle condizioni anche biologiche materiale dell'essere umano ci precludiamo da soli le strade. Giovanissimi insegnanti di matematica cosa diciamo proprio per incoraggiarli a fare bene questo lavoro? Dico quello che è stato detto anche nelle due relazioni di stamattina della professoressa Monari e della professoressa Gil Clemente bisogna conoscere bene la matematica approfondirla a volte faticoso ma si ottengono dei risultati conoscere molto bene la sua storia e approfittare di quella ricchezza di pensiero degli ultimi decenni su cosa è la matematica ci sono tante riflessioni interessanti cosa è il punto cosa è il numero concetti semplicissimi che un bambino piccolo può capire che sono parte del nostro patrimonio nel contempo anche uno scienziato un premio Nobel nel suo lavoro quotidiano e quindi questo mistero è stato esplorato e abbiamo tante vie tante idee che portano poi attività concrete da fare con i bambini grazie buon lavoro grazie a voi